Devo raccontare di lei? Sì! Allora lei è Xina, l'abbiamo trovata tre anni fa, incinta di otto cuccioli, quindi esterilizzata, ha tra i 4 e i 6 anni, è bravissima per i bambini, non va d'accordo con femmine dominanti, però per il resto a parte i gatti tutto bene, è molto affettuosa, è vero? Xini, è vero? Xini patatini, Xini patatini, Xini patatini, Xini patatini, questa Xini patatini, ma questa macchia sull'orecchio è bellissima, in forma di otto, troppo bella, e quando si mette tipo sull'attenti, mette le orecchie dritte così è bellissima, però adesso è in coccolandia, quindi non ci interessa. Per far vedere le orecchie, belle, 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 è vero? E' sta musona, guarda, guarda, guarda la faccia di coccole! E gli denti sono anche comunque di un cane abbastanza giovane, non è proprio... è vero? Lei va bene al guinzaio, cammina al guinzaio? Sì, sì, vieni, facciamo vedere, vieni Xini, anche ascolta... Cioè, addirittura con me cammina pure al piede senza, quindi a questione penso di abitudine... Che brava! Che brava! Che bravissima! Vieni Xina, andiamo, gira, andiamo, vieni! Vieni Xina, di qua! Vieni! Vieni X, ci mettiamo sedute? Eh? Seduta un po'? Vai! Seduta, bimba! Seduta! Vai! Brava! Bravissima! Che brava Xina! Brava! Come si può vedere, è veramente buona, è un cane tranquillo, le piace tanto andare al mare a fare le passeggiate... Che brava! Ciao, ansia! Ciao! Sei bella! Lei è proprio un cane da divano, comunque! Sei una divanetta, tu! Sei una divanetta! L'inverno mette la copertina! Oh! Sì, sì! Dobbiamo mettere la giacchetta l'inverno, perché abbiamo freddo! Giusto! Che c'è? Non mi posso abbassare! Mi vuole fare le coccoline! Vieni Xina, vieni qua! Vieni, mamma, vieni! E quindi niente, appunto, lei l'abbiamo trovata che vogliava in mezzo alla strada e si è buttato dentro il costino di casa mia E addirittura poi è saltato fuori una persona che la reclamava, ma lei è scappata dentro casa perché probabilmente è stata picchiata e maltrattata Cioè ha proprio scelto di restare dove stava e ha subito cose brutte perché per scappare così da una persona che dice di volergli bene E' vero Xini? Com'è bellina questo naso! E7 Giorno! Ho! 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 Ho!